Salve, sono Leo Bullotta e sono tra i sostenitori della lista Tsipras. Bisogna andare a raccogliere firme, abbiamo bisogno delle vostre firme affinché la lista Tsipras possa presentarsi alle prossime elezioni per le europee e quindi partecipare alla sua elezione. La vostra firma è importantissima, tanto quanto la lista Tsipras è piena di nomi autorevoli nel cambio di una presenza europea, nel cambio totale di moltissime cose di un'Europa più giovane, più moderna, più aperta, che guarda di più al popolo un popolo totale europeo noi altri. Quindi abbiamo bisogno della vostra firma, andate nei punti e qua potete leggere in questo sito tutti i punti di riferimento su dove trovare la modalità per andare a votare ma è assolutamente importante la vostra firma, è vitale. Quindi vi invito a raccogliere un attimo le vostre idee e a fare qualcosa di completamente diverso rispetto a questo panorama che spesse volte abbiamo trovato davanti ai nostri occhi attorno a noi, alla nostra società. Io andrò a votare e metterò la mia firma per la lista Tsipras alle europee.